ho buttato giù le torri se quasi sono divertiti a far spawnare dei nemici ma la si hanno usato auto clicker anche secondo me auto clicker easy enemies ma questa volta mi puoi veramente raffreddare ho finito adesso ho finito adesso e poi si scopri che dobbiamo prendere una chiave e che cazzo ho usato il punta clicker ci sono ancora le scarpine bastardi punto esclamativo che si apre si apre no corrali niente io prima o poi sono dovuto morire è bene tutto però ancora l'isis bene si beh qua comunque taglierò non posso mica fare un episodio tutto così lunghissimo questa parte qua ok 20 minuti che siamo in questa arena aspetta che vado a vedere se la porta si apre ecco i tori è cambiato qualcosa ci sono i tori no è qualcosa di nuovo esatto cioè ci ha fatto capire in poche parole non mi sono piantato ma almeno non è un lupo i cani stronzi ecco ma perché devono ammazzarmi così papi è cucù blito è Grazie a tutti.